segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te non chiedo credo se fra degli anni vuole gli abbracci vanno sempre bene con questa frase di pace e di speranza insomma possiamo abbracciare tutti anche quelli più anche righetti anche quelli più fragili perché a volte diciamo mi fa un po impressione quando ci si abbraccia tra ma si è pronti diciamo invece proprio lì su quelle coste a prendere a schiaffi e respingere quelli più fragili più deboli e su questo poi ne parleremo ne parleremo anche domani il nostro dibattito insomma sul tema l'amore dei migranti l'amore dovrebbe valere per tutti grazie nicola fratoianni grazie a fabio martini grazie a francesco giubilei adesso la linea va a marco piccaluga ea coffee break noi ci vediamo domani mattina sempre alle 8 grazie ciao